Oggi è sabato 20 agosto 2016, giusto? Esatto, esatto Siamo al castello dei principi di San Severino Quindi è una cosa molto importante Siamo persone tutte molto serie, molto, molto serie Molto serie, sì E niente, quindi facciamo, vogliamo fare un augurio Un augurio che... Viene dal cuore, un augurio spontaneo Nessuno ci ha costretto a farlo, assolutamente Siamo venuti qui di nostra spontanea volontà Il vino è buono, il vino è buono E quindi adesso Luca, dici qualcosa Alla fine, cosa possiamo dire? Possiamo augurare, cioè, quello che è iniziato tanti anni fa Esatto E che si è consolidato oggi, 20 agosto 2016 Tra San Severino, Abigianello Tra le montagne Tra le montagne Vorremmo fare un augurio Perché continui Auguri a Magma, Abiss Tanti auguri Auguri Alla fine 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione